se vada glielo butto in mezzo giuro perché non riesco te lo volevo buttare in mezzo tieni il passaggio devi andare a rompere i coglioni vabbè se proprio devo via arma rotante arma rotante arma rotante c'è un'altra c'è un'altra arma rotante questo devi portarlo a casa c'è su un graffito guarda è il drago di una volta preso questa è la via del drago guarda ci abbiamo anche il graffito guarda lui ha fatto mio zio quanto esiste con la vernice però dove vai dove vai da solo già tardi